secondo round secondo round eccoci qua allora già lui guarda prendimola parla che vuoi scelta free è free è free bella aspetta facciamo un attimo una cosa prendiamo intanto guarda prendiamo da qua guarda uno e due giochi ok questo non è e perché 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 adesso vedrai adesso vedrai lasciamoli qua da parte per un momento quindi giochi di carta scelta e facciamo così tagliamo e la lasciamo nel centro in questa maniera si vede che nel centro niente di ingagnoso diciamo così la mostro è in the center tagliamo e possiamo anche shuffleare ok ora che cosa andremo a fare facciamo tre mazzetti un po' più grande anche così adesso proviamo a trovare la carta scelta con i nostri giochi guarda lasciamo uno e uno in questo modo si vede un po' di spazio no? si si così eh? si riuniscono quale ragione è la tua? lasso di cuore infame infame lasso di cuore voilà infame ciao a tutti iscriviti al canale grazie a tutti 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 grazie a tutti